Ben trovati a questa nuova edizione del TG Wine News ed eventi dal mondo del vino. Presentati a New York i 130 migliori vini d'Italia secondo Wine Spectator, vini che saranno protagonisti dell'undicesima edizione di Opera Wine 2022. Per la rivista più influente al mondo la Toscana guida la squadra Enoica con 36 produttori seguita dal Piemonte 20 e dal Veneto 19. A dominare sono i vini rossi con 97 etichette, 15 di Barolo, 13 di Brunello, Amarone e Chianti Classico entrambi a quota 9. Una donna su 14 del settore vinicolo ha subito violenze nel corso degli ultimi tre anni. Dall'Associazione Donne del Vino arriva così la proposta di un corso antiviolenza rivolto alle aziende per sensibilizzare gli operatori del settore e incoraggiare le vittime a denunciare. L'iniziativa verrà discussa in Senato. Vini eccellenti sotto i 35 dollari. James Sackling, autorevole e seguitissimo enologo statunitense, ha pubblicato la sua speciale classifica con i 100 migliori vini al mondo sotto i 35 dollari. Di questi ben 19 sono italiani, tra l'altro piazzati in ottima posizione per i punteggi. Quarto posto assoluto per il Foradori Manzoni Bianco di Vigneti delle Dolomiti. Siamo stati all'inaugurazione della mostra fotografica micro arti visive Chi è Simone Cecchetti. Oltre alla mostra tante altre iniziative all'interno. Guardiamo insieme come è andata. Ma chi è Simone Cecchetti? Questa è la domanda che tutti si sono posti alla mostra fotografica organizzata da Paola Valori a micro arti visive. La prima domanda è scontata. Chi è Simone Cecchetti? È un bugiardo, come dice Gino Castaldo. Non ho fatto queste foto, l'ha fatta qualcun'altra. Io sono un semplice surpatore. Senti, ma tra tanti fotografi perché un documentario proprio sui tempi? A qualche particolarità ci sarà però. Era per far vedere le foto perché poi alla fine uno va su Facebook eccetera. Invece voglio lasciare, infatti adesso faremo anche un libro, facciamo una pubblicità occulta, uscirà un libro. Sei la prima a saperlo. Bene, come giornalista lo scupa. Perfetto. Simone Cecchetti, fotografo di scena, ha immortalato centinaia, migliaia di VIP nel backstage, nei loro momenti più intimi. Oltre alla mostra fotografica con gli scatti più significativi, durante la serata è stato proiettato in anteprima anche il documentario Chi è Simone Cecchetti? che andrà in onda su SkyArte. Sponsor della serata, i finger food dello chef Maura Pierangelini e i vini di Wine Go Shop. Ma quale vino piace a Simone Cecchetti? Noi lo abbiamo scoperto. Ma lei che preferisce? Bianco, rosso e rosato? Ultimamente anche le rosate, lo sai? Ah, abbiamo riva rosato. Il nostro rosato? No, prego. È un montepulciano. E' un montepulciano. Ed ora siamo giunti al momento del nostro partner Wine Go Shop, l'eccellenza dei sapori a portata di click. Facciamo subito entrare in studio il consulente di Wine Go Shop, Ettore Aimi. Ben trovato Ettore. Serena, cara, ben trovato a te. Allora, visto che bella serata a micro arti visive. Bellissima serata, bellissima serata. Mi sono divertito tanto, c'è stato un bellissimo dialogo, tanta attenzione e per cui sono proprio contento e felice. Grazie a Paola Valori che ci ha ospitato nella sua bellissima location a Prati. E a Simone Cecchetti piace il rosato delle Marenghe, un'azienda di Wine Go Shop. E' un'azienda, sì, una delle aziende di punta, il core business di Wine Go Shop. Ma oggi invece parliamo di un'altra azienda che è entrata da poco nel filatore di Wine Go Shop. Sì, sì, assolutamente. Nella dodicesima puntata del TG Wine avevamo parlato di un'interessante azienda vinicola marchigiana che era l'azienda di Claudio Morelli, appunto, ed avevamo presentato gran parte della sua estesa produzione. Oggi, anche in prospettiva della imminente bella stagione e ancora prima della Pasqua, voglio riproporti due etichette bianche di questa azienda e ovviamente presenti sul sito di Wine Go Shop. Queste due etichette sono il San Cesario, che è un bianchello del metauro in purezza, coltivato in diversi vigneti di proprietà a diverse altitudine che vanno dagli 80 ai 250 metri sul livello del mare, su terreni fortemente sabbiosi e tufacei. San Cesario è un vigno che fermenta un 15-20 giorni per poi affinare in acciaio. Alla visiva si presenta con un giallo paglierino, all'olfattiva è un alternarsi di note floreali e fruttate. Cito, fiori di Sambuco, la rosa gialla, così come la pesca e la mela verde, sono così i sentori più immediati. Alla gustativa è un vino estremamente fresco, ne prova la salivazione fluida che ne consegue e con queste note floreali e fruttate che si ripresentano inseguendosi l'una con l'altra. Da un punto di vista dell'abbinamento per la dinamicità gustativa espressa, trovo questo vino una divertentissima soluzione da aperitivo. Mentre, per quanto riguarda il secondo etichetta, il Borgo Torre è anche lui un bianchello del Metauro in purezza, ma benificato nella versione superiore. È coltivato in vigneti, sempre di proprietà, a 35 km dal mare e ad un'altitudine non inferiore ai 250 metri, su terreni che però hanno una composizione chimico-fisica diversa, dove la componente tufacia limosa e argillosa prevalgono maggiormente. Borgo Torre è un vino che fermenta per 25-30 giorni per poi affinare in acciaio. Alla visiva si presenta con lo stesso giallo paglierino, mentre all'olfattiva è un vino che, sebbene ripropone i sentori della stessa famiglia olfattiva, sono però sentori decisamente più complessi ed intriganti, ad esempio via la comparsa dell'acacia, così come del gezomino, per quanto riguarda i sentori floreali, o la nespola, per quanto riguarda i sentori fruttati. Alla gustativa, la sua mineralità è la sensazione più marcata, sebbene in grande equilibrio, così come nell'abbinamento, considerando la sua struttura e i suoi 14 gradi, è un vino ideale da accompagnare su uno squisito agnello al forno. E questi sono i due vini di due bianchi dell'azienda Borgo. Senti, ma Ettore, una curiosità, ma sono due doc o altro? Allora, entrambi i vini sono due doc, quindi sono due vini di origine controllata. Ti ricordo però, Serena, che le denominazioni, quindi l'IGT, la DOC, la DOCG, altro non sono che delle ricette per fare un vino. Ricette che ci dicono solamente quale vitigno viene utilizzato, dove viene coltivato, quale sistema di allevamento è stato utilizzato, che tipo di processo produttivo è stato praticato in cantina, dove, come, quanto tempo è stato affinato il vino, ma non ci dicono nulla queste denominazioni sulla qualità del vino. La qualità del vino la dà solo, è sempre il produttore, che con la sua competenza e con gli strumenti tecnici e scientifici in suo possesso riesce a meglio interpretare un terroire, così come a cavalcare nei migliori modi gli andamenti stagionali. Questa è una cosa a cui io tengo moltissimo, perché abbiamo sempre questo pregiudizio che le DOC e le DOCG siano dei vini migliori dell'IGT. Non è assolutamente vero. È vero, è vero. Quindi insomma, Ettore ci dà sempre preziosi consigli anche ai nostri followers, insomma, che si trovano di fronte a scelte, anche se possono sempre consultarti come personal sommelier, aspetta che oggi non l'abbiamo detto, facciamo vedere il numero, personal sommelier 380 1875 585. Bene, allora, il codice sconto che non abbiamo detto, TGW1103, il codice sconto per i due vini bianchi, insomma, fatti da Bianchello in Purezza di Claudio Morelli. Bianchello del Metauro in Purezza. Bianchello del Metauro, giusto. Bene, Ettore, grazie sempre dei tuoi consigli e come sempre ci vediamo la settimana prossima. A voi, a prestissimo. E continuiamo il nostro TG con gli appuntamenti che vi segnaliamo. Iniziamo da Uva Fiera, dal 12 al 14 marzo, beviamola in Purezza, la mostra mercato di vini ottenuti da Monovitigno. Si terrà a Roma, alla città dell'altra economia. Andiamo poi a Siena, a Santa Maria della Scala, 12, 13 e 14 marzo, i migliori produttori italiani selezionati tra i vincitori del Merano Wine Festival. Proseguiamo con Io Vino, unica giornata a Roma, il 13 marzo, all'hotel Ergife, arrivano i vitigni autotoni. Spostiamoci a Milano con i vignaioli di montagna, 13 e 14 marzo, 50 banchi d'assaggio con oltre 100 vini in degustazione dai produttori Trentini e Alto Tesini. Tutto questo a Milano, negli spazi base e Cari Pro Factory, in zona Tortona. Stessa data, ma altri vini, questa volta a Roma, quindi sempre 13 e 14 marzo, a Spazio 900 all'Eur, arrivano i vini selvaggi, la fiera indipendente dei vini naturali a Roma. E finiamo ricordandovi il corso di avvicinamento al vino organizzato dall'Enoteca Bertini. Lunedì, secondo appuntamento, ci saranno i vini del Centro Italia. Ultimo appuntamento che vi vogliamo segnalare, giovedì 17 marzo, visita guidata all'Afficio di Italy, organizzato dall'Associazione Vino in Fieri. Bene, questa era la nostra ultima notizia, mi raccomando, un like e una condivisione e noi ci vediamo giovedì prossimo. Cheers! Ciao!